oggi siete qui per oggi è la giornata puliamo il mondo ci sono diverse associazioni io faccio parte di lega ambiente ci sono ecocentrici ci sono quelli di plastic free è una giornata in cui abbiamo deciso di metterci assieme tutte le varie associazioni e di fare questa pulizia lungo la via trieste c'è molti rifiuti un sacco di rifiuti poi alla fine li porteremo tutti al centro la piallassa dove c'è il centro ippico e dopo lì verrà fatto credo la foto di tutti i rifiuti raccolti